Una web marathon per il 25 aprile. Con questa iniziativa presentata oggi in una conferenza stampa online, il Polo del Novecento, anche con il sostegno e il patrocinio del Consiglio regionale del Piemonte e del suo Comitato Resistenza e Costituzione, ha deciso di celebrare l'anniversario della liberazione in questi giorni condizionati dal coronavirus che impedisce l'organizzazione di eventi pubblici e la partecipazione delle persone. 75 anni fa si conquistava la libertà, oggi si torna in trincea e si combatte per riconquistarla. Sabato dalle 10 con hashtag Torino 25 aprile sui siti del Consiglio regionale del Piemonte www.cr.piemonte.it della città di Torino e della stampa si potrà seguire la diretta web con letture, musiche e filmati per approfondire la conoscenza di quel momento storico e riflettere sul suo lascito. Il giorno della liberazione che si celebra quest'anno per la 75esima volta è una ricorrenza che riveste particolare importanza in questo momento delicato per il Paese, colpito da una gravissima emergenza sanitaria. Festeggiare il 25 aprile equivale a ribadire il valore della lotta di liberazione come atto fondativo dell'Italia contemporanea, ricordando che i protagonisti di allora si batterono perché tutti potessero diventare e restare uomini liberi. Un patrimonio unico e prezioso del quale noi tutti ci sentiamo custodi. Nell'ambito della maratona web il Comitato Resistenza e Costituzione ha promosso Benedicta, Pasqua di sangue del 1944, due video-lezioni che raccontano il più grande eccidio di partigiani avvenuto nei pressi del monastero benedettino della Benedicta e lo speciale R. Esistenza, video che propone un parallelo tra il dramma di allora e quello che sta attraversando il presente. Quest'anno non potremo scendere in piazza per festeggiare la liberazione, non potremo incontrarci, partecipare a fiaccolate e a momenti commemorativi. Fino a ieri sapevamo che il confinamento, i divieti, la cancellazione della libertà personale fossero la cifra del fascismo. Oggi stiamo combattendo un virus reazionario che ci ha sottratto la libertà di uscire, di abbracciare i nostri cari, di godere della cultura, della natura, della bellezza. Questo 25 aprile ci ritroveremo comunque insieme, seppur virtualmente, per dimostrare che anche di fronte a una dura prova noi restiamo una comunità di donne e di uomini liberi.